salve a tutti in questo video andiamo a vedere due plugin per me essenziali su qualsiasi browser e in questo momento farò il test su google chrome ma funzionano esattamente anche su firebox e funzionano su windows linux mac e io sto usando linux ma non cambia assolutamente niente allora primo plugin che per me è assolutamente importante è ma vi siete mai accorti che ogni sito che aprite vi chiede l'autodidazione ai cookie banner che palle allora io ho trovato il modo per farmi automaticamente accettare solo in cui i tecnici e quindi non vedo più il cookie banner allora adesso ho aperto il browser che era già aperto su youtube e qua in piccolo lo vedete già adesso ve lo ingrandisco c'è il simboletto di un biscottino perché quel plugin del quale sto parlando è proprio questo plugin qui e si chiama don't care about cookies allora come si fa per installarlo su qualunque motore di ricerca don't care about cookies ok arrivate alla pagna dei risultati di ricerca cliccate sul primo ok praticamente qua non avrete rimuovi ma avrete installa potete dirgli installare anche su modalità ad incognito cioè parlo funzionare anche modalità incognito e praticamente anche semplicemente quando aprite google se avete come me la magna di resettare tutto perché volete tutto bello pulito quando chiudete browser non vi si aprirà più il banner accetta o rifiuta ok su tutti i siti allora volendo si può fare così allora prendo il plugin faccio di nuovi da google chrome ok l'ho rimosso adesso chiudo il browser e lo riapro libero.it tac non ha rotto tanto le palle ma andiamo per esempio su il fatto quotidiano online eccolo qui che comincia a dire abbiamo cuore al tuo privacy ok col fatto quotidiano ci nota che non sta funzionando il plugin perché l'ho appena elevato allora ricordiamoci il fatto quotidiano non care about cookies ci vado su lo installo aggiunge estensione ok niente di più strano ok fatto adesso chiudo tutto di nuovo allora proviamo di aprire di nuovo il fatto quotidiano avete visto non ha più rotto le palle sui cookie banner è arrangiato e lo fa per tutti i siti che hanno bisogno di cookie banner come opzione l'abbio ok un altro plugin che a me piace tantissimo e aspettate che non faccio fatica a ricordarmi dei great suspender eccolo qua cosa combina adesso tengo il fatto quotidiano aperto e apriamo per esempio youtube e per esempio guardate mi vado a vedere questo video che è arrivato di 6 l'app ok perché ogni tanto guardo questo dei v 504 che suona il basso e poi mi apro per esempio questo dovre volte non so se una challenge una reaction di sempre dei v 504 ok quello che è importante è che sul pc molto poco potenti e per velocizzare le cose questo plugin preimposta delle clic per rendere il browser un po più veloce e consumare meno ram allora andiamo su impostazioni così faccio vedere le impostazioni che ho utilizzato opzioni ok automatiche tab suspension un minuto cioè gli si dice guarda se io non sto utilizzando un tab per un minuto tu in automatico me lo sospendi poi non usate never suspend pin the tabs poi gli altri successivi tre limitate tutti gli ultimi due levate poi automatiche lì poi automatiche lì ansa spend when tab is viewed cioè poi andate a riaprire la tab si auto riapre la tab il resto light va benissimo perché il te le tab sospese saranno un po più chiare non usate lo screening capturing e abilitate gli ultimi tre basta adesso lo vedremo subito che come funziona perché quando gli aprirò una tab che ho sospeso si vedrà un immaginetta in grigetto per pochissimo tempo e poi si apre il sito originale diciamo proviamo col fatto quotidiano ecco avete visto quella immaginetta della tab con la faccina perché quella tab è nani suspend quindi meno ram meno cpu e meno utilizzo del browser in pratica ecco tutte le mie tab sono sospese quindi quando si apre si apre ok praticamente si mette un secondo in più ad aprirsi la tab però almeno se ne avete tante aperte tutte non sono che occupano memoria ma tutte in sospende dopo un minuto e potete tenerne tante 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 aperte senza avere il browser che occupa 100 miliardi di giga per niente perché nella realtà nell'occhio umano guardano a tab alla volta è che anche il nostro cervello quindi questa è la situazione per questo video è tutto